Occorre che riprenda il confronto, il dialogo perché gli impegni che abbiamo di fronte, che il sistema giudiziario italiano ha di fronte, sono molteplici e dobbiamo tentare di conseguire gli obiettivi ambiziosi con la partecipazione di tutti gli attori della giurisdizione. Quindi un appello a che si provi a rimuovere le ragioni delle distanze che si sono verificate. Io posso augurarmi solo di sì, altro non posso fare se non ciò che ho già detto, cioè il Consiglio Superiore nella sua autonomia, nell'esercizio delle sue funzioni, lavora perché la dialettica tra le varie parti sia ricondotta a livelli fisiologici e sia indirizzata verso il perseguimento dell'obiettivo comune a tutti. Quella di una giustizia più giusta.